Prenderanno il via sabato 26 marzo da Villa Calchi a Calco gli stati generali della cultura del parco a Danord, da Leonardo da Vinci ad Alessandro Manzoni, dalla natura all'archeologia industriale, tanti temi che verranno approfonditi durante gli incontri con esperti. Obiettivo promuovere il territorio favorendo una fruizione turistica di qualità a partire dal patrimonio artistico, culturale e ambientale. La cultura è bellezza e da questa scaturisce l'amore che nutre le comunità umane, spiega Ignazio Ravasi, consigliere delegato alla cultura del parco a Danord e promotore del progetto. Lo sforzo è duplice, costruire una rete culturale attrattiva a livello regionale, nazionale e internazionale, aggiunge, e contestualmente valorizzare tutte le straordinarie risorse umane operanti nei diversi ambiti culturali. 12 l'intervento in programma, il primo a salire sul palco sarà lo storico dell'arte Luca Tomio, che parlerà del ruolo del genio Vinciano nella Valle dell'Adda. Parentesi dedicata al teatro con Elena Scolari di Teatro Invito, che ormai da qualche anno propone la rassegna I luoghi dell'Adda e con l'eclettica attrice Lorenza Zambon. Spazio quindi all'archeologia industriale della Valle dell'Adda, con la storica dell'arte Barbara Cattaneo e con l'intervento di Giampaolo Torchio e Michele Pellegrini, sindaci di Paderno e Calusco d'Adda, che presenteranno la candidatura del Ponte San Michele come sito UNESCO. Non può mancare Crespi d'Adda e il suo villaggio, raccontato dal presidente dell'Associazione Culturale Crespi d'Adda, Giorgio Ravasio. Si vira poi verso la letteratura ai luoghi manzoniani con Mauro Rossetto, direttore scientifico del Museo Manzoniano di Lecco. Lo storico Cristian Bonomi illustrerà le finalità dell'ecomuseo Adda di Leonardo, mentre Andrea B. vi spiegherà come valorizzare il territorio grazie alla tecnologia digitale. Agli stati generali si parlerà anche di seta e bacchicoltura con Flavio Crippa del Museo ABEG e di progetti di educazione ambientale nelle scuole con Maurizio Valota, per finire il turismo dei cammini religiosi con Andrea Beretta. La presidente del Parco Adda Nord Francesca Rota e il sindaco di Calco Stefano Motta faranno gli onori di casa, accogliendo le autorità che interverranno nel corso del pomeriggio. Sul sito cultura.parcoadanord.it il calendario degli appuntamenti, oltre che un raccoglitore unico degli eventi promossi dai 35 comuni del Parco e dalle associazioni che operano sul territorio.